una cosa che a me interessa parecchio questa è l'entrata e andiamo a vedere che cosa c'è massimo riesco a beccare anche il pesce per il mio acquario vediamo andiamo una tartaruga o un pony che è enorme qua ci lascio ci lascio i soldi qui ragazzi le piante però è una cosa che a me che mi interessa più di tanto vediamo un po' queste sono da paura dice che sono grandi il camaleonte ragazzi mi sono soffermato un po' adesso andremo a vedere anche i pesci però questa cosa qua è troppo bella impressionante proprio 130 euro un amico per te raul questi non sono di gomma questi sono tutti livi mamma mia guarda anche lo scorpion bellissimo guarda questo buba quel millepiedi è schifo no non dire così è traverso un tremendo ah c'è la gente che piace questa roba qua eh voglio un po' di cavallette o sono a Burghidon queste qua le viste sono nel film degli orrori che vengono fuori dappertutto sono bellissime e mamma ci siamo qua andiamo sul più bello acquari contro acquari che bello che bello pezzi pesce combattente questo è bellissimo tanta roba ragazzi eh guardate qua che belle carpe carpe coi non so se si deve capire il colore perché sono panteschi guardate qua che bello questo mamma mia è un pesce palla questo pesce palla da paura bellissimo sembra quello del capimano di macchia qua siamo siamo al top River Monster Italy a questo sguiglio qua guarda te lo ricordi? questo ce l'avevo anch'io eh ma che bello è proprio bello eh guardate qua guarda come c'è il pescato guarda come c'è il pescato ha paura guarda questo qua è enorme ragazzi questa è la mia mano eh guardate qua è esagerato guarda come c'è il pescato guarda che bellini guarda che bellini buon'è spesco bello grazie grazie E' molto... molto pacchiano, devo dire che i capelli però questi qua non hanno nessuno Ma questo qua si vede molto al mio Ma qua ecco Che testone, però questi qua ti sparano una città da favore Guarda qua è pieno Carino dai eh Guarda qua, mi sa che non becchiamo uno, te lo dico Se non mi dicevano una cifra e sei da serata Ma che bello Ecco così, due neri così, quello piccolino lì Nero su nero E mamma mia, non so se mi siete neri ragazzi No Vabbè, muori anche tu Questo lo somiglia a Ginetto Ciao Gino Però come acquario capito ci starebbe Direi che lasciate Calcolando anche il prezzo Mi sa che prendo due di questi Sicuro Signorina, voglio due lumache Bellissime E questo? Ciao E finalmente abbiamo preso i pesci Per time and pesca Sono bellissimi Adesso vediamo Ciao ragazzi Ciao